venerdì 5 luglio 2024 buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa buongiorno buon venerdì appuntamento oggi alle 13 in diretta con friday mil live non mancate avremo modo di parlare insieme del milan della situazione del milan delle ultime notizie di mercato vi ricordo anche un'altra cosa importante il numero di telefono per i vostri vocali whatsapp che è 366 111 2964 e a proposito di whatsapp attivo il gruppo dove ogni giorno trovate un po di rassegna stampa dove trovate un po di notizie eccetera pochi messaggi al giorno ma interessanti insomma per restare così in contatto anche per il gruppo whatsapp trovate il link qui sotto in descrizione cliccate e potete accedere al gruppo detto tutto passiamo alle notizie allora calendari ieri di serie a qualche cosetta di mercato questa sera ricomincia l'europeo con due quarti di finale bellissimi speriamo insomma spagna germania le 18 e francia portogallo questa sera le 21 naturalmente massima copertura su questo canale per quel che riguarda questi appuntamenti ne parleremo insieme li commenteremo eccetera eccetera voglio farvi vedere una piccola curiosità una chicchetta come si dice una piccola chicchetta allora sapete che spesso ci si domandano i giornali come lavorano i quotidiani eccetera eccetera sarà un caso che tre dei principali quotidiani italiani scrivono tutti la stessa cosa in prima pagina guardate che roba divertente allora corriere della sera non riguarda lo sport però era così tanto per parlare un po di come i giornali operano che poi si riflette anche del mondo sportivo gran bretagna scrive il corriere della sera valanga la burista ok quindi valanga la burista poi andiamo sulla stampa e il titolo è lo stesso guardate valanga la burista poi andiamo su la repubblica onda la burista curiosa questa cosa e fateci una riflessione insomma va bene andiamo alle cose prosaiche cominciamo dalla gazzetta dello sport e cominciamo beh c'è il tennis naturalmente con wimbledon e che continua con sinner torna in campo che musetti va avanti la jasmine paolini quindi l'italia è tutta dietro al tennis vedete poi che com'è sia insomma un momento particolare nel senso che magari nel calcio non produciamo grandi campioni ma in altri sport invece stiamo veramente sfornando dei talenti che quasi non abbiamo mai visto in italia sicuramente nel tennis uno come sinner non l'abbiamo mai visto ecco qui i calendari la partenza col botto corsa scudetto subito calda la terza inter atalanta juve roma e lazio milan scintilla alla quinta conte sfida motta e il derby di milano poi a destra vedete per il milano un nuovo nome quello di pavlovich del salisburgo costa 20 milioni e rispunta morata cosa 20 milioni strano non avrei mai detto che fosse la cifra che fosse la cifra per il milano va bene e vedete qui a destra poi gli europei con i quarti di finale di cui parlavamo prima e andiamo a vedere la prima pagina del corriere dello sport oggi il corriere dello sport il regalo il calendarione della serie a se volete appenderlo al vostro armadio in camera eccolo qui il poster calendario beh devo dire che una cosa carina nel senso che si ai miei tempi era era molto attesa questa cosa e addirittura ai miei tempi non so se vi ricordate in edicola una decina di giorni dopo il calendario cioè l'uscita ufficiale del calendario venivano distribuiti i librettini con col calendario della serie a c'erano dei librettini piccolini che poi con lo spazio anche per compilare i risultati insomma robe robe d'altri tempi allora la terza è di fuoco già l'inter campione debutta a marassi motta c'è il como conte parte da verona i grandi match arrivano il primo settembre in zaghi contro gasperini la juve incrocia la roma allo stadium la lazio pesa il milan di fonseca spettacolare la quinta antonio il napoli a casa dei bianconeri mentre a san siro si gioca il derby l'otto dicembre tiago sfida il bologna notizia di mercato la juve sempre più su copmainers gasperini cerca un'altra mezzalla svolta per l'olandese da motta l'atalanta non si ferma a zaniolo con cop che resta una priorità per tiago poi c'è l'intrigo buongiorno promesso al napoli ma l'inter sta cercando di inserirsi a destra vedete spinazzola è fatta andrà proprio da antonio conte poi bappé cr7 il mio idolo oggi partono i quarti di finale le due stelle accendono la sfida tra francia e portogallo un onore giocare contro il cristiano dice kylian bappé e poi dice anche non votate le pene ma non c'è correlazione tra ronaldo le pene sono due frasi così che ha detto distinta è tutto sport quanti big match vicini alla champions ecco il calendario motta comincia dal como incroci europei duri per juve inter e milan gennaio di fuoco per i bianconeri poi ieri pare che sia stato un vertice tra giuntoli e tiago motta con la decisione di mettere federico chiesa sul mercato allora juve cop con fede vedete qui i giallorossi che vogliono anche arthur pronti a pagare i 25 più 5 di bonus per l'esterno e quindi anche la roma spende più di noi per un singolo giocatore e il milan ripensa morata vedete a sinistra e poi via i quarti che sembrano delle finali sfide fra le più forti oggi spagna germania e portogallo francia domani inghilterra svizzera e olanda turchia questi i temi principali sulle principali pagine del prime pagine dei quotidiani andiamo agli approfondimenti gazzetta dello sport la super serie a la partenza e sprint alla quinta c'è il derby inter milan conto e sfida motta subito match ed alta classifica nelle prime giornate in zaghi debutta con il genoa la juve con il como troverete ovunque naturalmente il calendario della serie a serie a che riparte e da lunedì tutti in campo lunedì anche in tarda mattinata la presentazione di fonseca e in un certo senso qui si veramente della stagione poi nel pomeriggio si comincia a lavorare eccolo che vedete trentino e austria si va in ritiro anch'io adesso ando in ritiro in austria 15 giorni o in trentino anche perché no vabbè ma sono in tanti a stare a casa inter atalanta fiorentina nei propri centri sportivi la juve in germania la roma in inghilterra solo il milan vola negli stati uniti e a proposito di milan ci sono notizie di mercato la doppia occasione rossonera doppia occasione da una parte c'è un nome nuovo che è quello di pavlovich dall'altra parte c'è un nome vecchio che è quello di morata che ogni anno insomma sulla falsa riga è uno spin off di casa lukaku ma ovviamente non può essere bello come l'originale milan doppia occasione eccola qua il gigante pavlovici idea per la difesa davanti pista morata il serbo del salisburgo costa sui 20 milioni per alvaro c'è una clausola da 13 milioni circa e dunque questi sono i due nomi che sono usciti ieri pavlovici un'ipotesi che potrebbe diventare concreta in caso di cessione di uno dei centrali in rosa malik ciao su tutti e poi c'è la questione della presentazione ieri dell'under 23 ne abbiamo parlato zlatan punta sui talenti bremovi ci dice se toccano camarda entro in campo io cioè di tutto quello che ha detto ibre ieri e ha parlato anche di cose interessanti il titolo è su una battuta mannaggia la miseria vabbè lo svedese sicuro gimenez sarà il vice teo i giovani cresceranno con la prima squadra intanto la juventus si rifà il centrocampo eccola qua super juve al centro con miners aspetta la signora giuntori è pronto con l'offerta i bianconeri possono investire 40 milioni per l'olandese ma prima serve una cessione l'atalanta ne vuole incassare 60 ne incasserà circa 60 il bologna che cederà calafiori all'arsena perché è praticamente fatto il passaggio del centrale difensivo delle bologna proprio al ai gunners eccolo qua vedete calafiori va all'arsena li gunners vincono l'asta 43 e 53 milioni al bologna e 4 per riccardo l'azzurro ha scelto arteta il club di saputo dovrà versare il 50 per cento al basilea al netto dei 4 milioni spesi per l'acquisto per il rosso blu un guadagno di circa 22 milioni di euro questa dunque la situazione per quel che riguarda il mercato così abbiamo fatto un giro veloce un'infarinatura generale per quel che riguarda il mercato andiamo a vedere invece le probabili formazioni delle partite di questa sera perché alle 18 il meglio che c'è scende in campo spagna germania da yamala musiala quanta qualità presente futuro nella sfida dei quarti con i super talenti ci sono pure williams nico e virz allora formazione così alle 18 a stoccarda la spagna con praticamente la formazione titolare quindi con pedri rodri fabian ruiz a centrocampo nico williams morata e diamal in attacco occasione per vedere dal vivo il nostro prossimo centravanti che non l'avete mai visto morata stasera avete l'occasione per guardare la germania con gunner musiale virz alle spalle di caiavers queste sono le formazioni insomma abbastanza scontate avendo a disposizione praticamente tutti chi è il più bello del reame chiede la gazzetta dello sport ronaldo contro mbappé portogallo francia è l'idolo contro l'erede chilian da piccolo ammirava cristiano l'ha conosciuto poi a madrid ora sbarca al real ma farò a modo mio dice mbappé ad hamburgo alle 21 questa sera il portogallo con leao in campo bruno fernandes e bernardo silva con ronaldo di punta vitignia e paligna che sembra proprio a un passo dal bairmonaco tra l'altro a centrocampo nella francia meniani in porta teo naturalmente terzino sinistro camavinga chiameni e cantea centrocampo dunque non c'è rabbios qualificato bappé turam e grisman in attacco poi naturalmente questo 4 3 3 potrebbe diventare un po altre cose soprattutto col movimento di grisman lo scopriremo questa sera e poi naturalmente commenteremo insieme entrambe le partite ma nel frattempo appuntamento alle 13 con friday me live in diretta non mancate perché sarà una puntata importante vi aspetto buon venerdì a tutti